Lo sport adesso per la palla a volo parliamo della Lube Civitanova, campione d'Italia che già sta programmando la prossima stagione. Oggi è stato un giorno importante perché è stato presentato il grande colpo del mercato estivo e il ritorno del capitano della nazionale italiana Ivan Zajcev che è stato presentato ai tifosi. Ha seguito per noi la giornata Matteo Tacconi. La nuova storia di Ivan Zajcev con la Lube inizia dal Madeira, uno chalet sul lungomare di Civitanova Marche. Qualche selfie, qualche autografo, poi l'incontro con la stampa. Lo zar della Palavolo aveva militato nella Lube tra 2012 e 2014 lasciandola con uno scudetto. La ritrova con due titoli nazionali conquistati di fila. Tifosi e dirigenza hanno ancora fame di vittorie ma questo non lo preoccupa. Siamo abituati a sentire la pressione ogni giocatore quando si mette addosso alla maglia della Lube e è perfettamente conscio dell'importanza del progetto tecnico e delle ambizioni della società. Vieni per vincere ma se proprio dovessi scegliere tra Coppa Italia, Campionato e Champions che non hai mai sollevato, cosa diresti? Sì, la Champions, ho detto che non l'ho mai vinta, mi fa piacere vincere, però vincere con la Lube, vincere la Champions, vincere la Supercoppa, la Coppa Italia, lo scudetto, ovviamente alla fine o il campionato del mondo è la stessa cosa. Dopo il 2014 Zaitsev ha giocato a Mosca, Modena, Perugia. Lo scorso anno a Kemerovo, di nuovo in Russia, una città siberiana. Qualche mese fa la chiamata della Lube, subito accettata. La trattativa è stata lampo perché aveva voglia di tornare in Italia e quindi io credo che non ci abbiamo messo più di dieci minuti, solo un sì e una stretta di mano. Tante esperienze e molti titoli, la fascia di capitano della Nazionale Italiana e qualche anno in più si va verso i 33. È uno zarmaturo quello che torna per la seconda volta sull'Adriatico, non penserà solo a schiacciare. Porto il cercare di rendere il tutto molto più semplice e fluido perché dobbiamo far girare bene anche lo spogliatore e non soltanto il campo.